Bentornati alla Colonna d'Ercole. Allora oggi vi dico la ragione per cui secondo me Openheimer che ho visto pochi giorni fa prenderà una valangata di candidatura all'Oscar che non significa poi in automatico che prenderà altrettante statuette insomma che ne vincerà altrettante ma sicuramente sarà il film più candidato all'Oscar credo di questa stagione. È sicuramente il film dell'anno, ne parlano tutti c'è stato un battaggio pubblicitario importante però devo dire che come dire tutta la pubblicità che è stata fatta tutto il battaggio, tutto anche il parlare che si è fatto sui social e ovunque insomma devo dire che c'è una ragione per cui è stato fatto non è quindi il prodotto nessuno si aspettava che lo fosse evidentemente non è quindi il prodotto classico magari immaginate un film della Marvel che comunque con un budget sterminato che quindi ha comunque una promozione pubblicitaria gigantesca e poi tutti ne parlano non vuol dire che poi il film sia necessariamente un capolavoro il film in questione invece è un film veramente molto bello è il film sicuramente della maturità di Nolan e credo che Nolan abbia dimostrato in due situazioni che è il film della maturità innanzitutto nel fatto che anche che vi siano quattro piani narrativi la trama è abbastanza comprensibile cioè certo c'è qualche la trama è molto complessa ci sono tantissimi personaggi per cui io stesso vi confesso che un paio di passaggi non li ho afferrati bene è un film che mi ha visto almeno due volte probabilmente certe cose si crescono meglio la terza però voglio dire nella sua sostanza il film si capisce e quindi insomma non ci sono dubbi come qualcuno aveva avuto guardando Tenet o come qualcuno aveva avuto guardando Inception io seguo Nolan dal 2000 ormai dal filmimento che avevo trovato straordinario e che era straordinario in effetti era un film, non so se l'avete visto ma che andava al contrario cioè partiva dalla fine e veniva raccontato tutto è tutto al contrario quindi veramente bellissimo ecco questo film come dire è un film più tradizionale per questo dico il film della maturità non è un film in cui Nolan abbia necessità di mostrare i muscoli o di mostrare una trama o una narrazione soprattutto estremamente complessa a volte anche troppo complessa come appunto nel caso di Tenet o di Inception la seconda ragione in cui dimostra che il suo film della maturità è nell'uso molto parco e molto elegante degli effetti speciali nel senso questo era un film che si poteva prestare a un sacco di utilizzo di computer grafica quando Oppenheimer pensa immagina mondi, atomi oltre ovviamente all'esplosione della bomba atomica che poi insomma se vogliamo è anche la parte più banale per certi versi questa parte c'è ma è veramente molto controllata fatta in maniera strepitosa evidentemente ma molto controllata molto elegante molto per questo dico che è veramente il film il film della maturità straordinario il montaggio straordinario la fotografia bellissima poi lo stesso formato in cui è stato giocato il film anche se poi non tutti i cinema come dire hanno la possibilità di riprodurre veramente quella che è l'idea dell'immagine del film che aveva regista sicuramente però è indubbio che la fotografia sia molto bella il montaggio è fatto molto bene l'interpretazione è anche questa di altissimo livello e non tanto quella di Killian Murphy a proposito ricordate è Killian non Cillian non tanto di Killian Murphy insomma che è un bravissimo attore insomma però voglio dire non è come dire questa è una di quelle parti per cui potrebbe prendere l'Oscar perché il film è stato talmente di grande successo che molte volte c'è il riconoscimento del personaggio in realtà non è una parte dal punto di vista attoriale particolarmente difficile però ripeto a volte si portano a casa le statuette più per il successo che ha avuto il film che non per la performance che è stata fornita trovo invece strepitoso il personaggio fatto da Robert Downey Jr l'ammiraglio Strauss che in Robert Downey Jr quasi irriconoscibile invecchiato stempiato insomma veramente un personaggio diverso dal solito e che lui interpreta veramente con magistrale bravura la figura di quest'uomo venuto dal niente insomma molto ambizioso uno che proprio perché è partito dal niente pur di arrivare in alto passerebbe sopra anche da altre persone insomma ed è veramente bellissimo come Robert Downey Jr interpreta e rende questo personaggio bellissimo a contorno ci sono attorini come Josh Hartnett come Ramin Malek come Kenneth Branagh che fanno delle parti decisamente minori insomma e questo le dice lunga sulla scelta del cast insomma quando hai questi grandi attori che fanno un cameo o poco più è caspita ma arriviamo alle musiche anche per Ludwig Goranson così come per Christopher Nolan io credo che questa sia la colonna sonora della maturità perché? perché allora se mi chiedete ma ti è piaciuta? devo dirvi sì e devo dirvi no parto dal no dai che è la parte più facile non mi è piaciuta perché non è il genere di colonna sonora che piaccia a me va bene non è una colonna sonora e tra l'altro sono andato al cinema molto preparato dopo averlo ascoltato molte volte insomma quindi sapevo perfettamente a cosa andavo incontro avevo visto anche un po' di un po' di trelle mi ero confrontato con persone che avevano già visto il film e devo dire che al netto di due o tre pezzi veramente bellissimi veramente veramente molto ben congegnati e strutturati vi devo dire che non è il tipo di colonna sonora che mi piace in genere ma non è il tipo di colonna sonora che si ascolta non è che diceva oggi pomeriggio mi faccio una playlist di colonna sonora ci metto vediamo Indiana Jones ci metto Star Wars ci metto ET ci metto il padrino ma sì ci metto anche Openheimer no è una colonna sonora che non si fa ascoltare ok perché salvo ripeto un paio di punti è una colonna sonora basata molto su droni basata molto sugli archi ecco devo dire quello che mi ha sorpreso è che fondamentalmente la colonna sonora è fatta con archi e ovviamente con tanta elettronica evidentemente insomma però mi è piaciuta questa scelta quasi povera per certi versi se dovessi scommettere credo che il fatto di aver scelto un gruppo di archi spesso ridotto stia a simbolizzare probabilmente la solitudine del personaggio l'unicità dello scienziato e le difficoltà che ha avuto ovviamente sia nella sua vita privata che nella sua carriera però tutta la colonna sonora ripeto che di per sé non è una colonna sonora che ascoltereste su Spotify per il piacere di ascoltare della musica è perfettamente funzionale nel senso è una musica che io quando l'ho ascoltata l'ho ascoltata tre quattro volte tutta come dire per spirito di servizio per in certi punti avevo veramente il nervoso ero veramente sul punto di chiudere perché non è una musica fatta per essere ascoltata è una musica fatta per commentare l'immagine e questo lo fa in maniera egregia vi dico che questa è la colonna sonora della maturità per Ludwig Goransson anche se ancora abbastanza giovane perché perché è palese che su questa colonna sonora c'è una visione dall'alto cioè proprio lo vedi capisci il concept capisci l'idea che ha voluto dare e capisci che si è partiti da un concept da un'idea e si è andati nel singolo e non come molte volte si fa insomma non nel cinema di alto livello ma molte volte nel cinema si fa in cui si parte ok commentiamo questa scena allora poi commentiamo quest'altra cioè dove però molte volte manca il collegamento fra le due scene e soprattutto vista dall'alto tu vedi un insieme di pezzi anche bellissimi singolarmente magari che commentano benissimo la scena ma non vedi l'idea sottostante qui l'idea sottostante è forte è chiara ed evidente perché questa colonna sonora è così ossessiva è così anche fastidiosa in certi momenti lo scopo di questa colonna sonora che tra l'altro permea tutto il film io credo che per il 70 80% del film ci sia musica quindi c'è tantissima musica in questo film anche in tanti punti dove io francamente non l'avrei messa cioè sotto certi dialoghi sotto certe scene francamente non se ne sente la necessità e allora perché è stata messa non solo perché è un po' invalso in Hollywood l'idea di mettere tantissima musica sul film ma perché vi ripeto c'è una visione dall'alto qual è la visione dall'alto quella di riempire le nostre orecchie di saturarle di suoni e poi nel momento in cui loro fanno un esperimento e scoppia la bomba la scena viene fatta col silenzio assoluto anzi se non sbaglio si sente qualcuno che si schierisce la tosse qualcuno insomma piccoli rumori di vita senza nessun suono però della bomba che esplode e nessuna nota e vi assicuro che dopo due ore passa che sentite questa musica che vi riempie le orecchie quel momento di dissenza assoluto è veramente deflagrante come la bomba per cui fare una colonna sonora così lunga con l'unico scopo di far notare il punto del film dove la musica non c'è beh insomma chapeau a proposito del film certo che c'è qualche esemplificazione nel senso ho parlato anche con qualche con qualche amico scienziato e mi hanno detto ma certi passaggi non stanno in piedi cioè non è che arriva il giornale e dicono ah i tedeschi stanno facendo la bomba ah allora si può dividere l'atom allora va alla lavagna e in dieci minuti ah sì in effetti si può dividere cioè non funziona così evidentemente un procedimento scientifico però non dobbiamo star qui a sottilizzare su queste cose perché non dobbiamo farlo perché non dimentichiamoci che è un film non è un documentario quindi c'è comunque una narrazione dietro c'è comunque un progetto dietro è comunque un prodotto di consumo e di intrattenimento fondamentalmente poi certo un film profondo un film che apre a riflessioni un film che apre a pensieri un film che fa riflettere tutto quello che volete ma non dimentichiamoci mai che un film è un film è un modo quindi di intrattenere il pubblico per una, due in questo caso tre ore sane di film con lo scopo appunto di intrattenere che poi un film porti a delle riflessioni personali sociali sui medi tutto quello che volete benissimo ecco però non dimentichiamoci che è un film e non un documentario per cui tornando alla colonna sonora sicuramente è funzionale al film al film a cui è abbinata e quindi quando un compositore riesce in questo scopo è stato pagato a buon diritto anche se il linguaggio di per sé non è particolarmente originale è una strada musicale che altri compositori Zimmer intanto più ne una hanno già intrapreso e esplorato da diversi anni tuttavia qui non siamo necessariamente alla ricerca di una cosa mai fatta prima che oggettivamente è sempre molto difficile ma ha del perfetto abbinamento tra musica e immagine e qui c'è concludendo è un piacere vedere che un film comunque di così alto di così alto livello di così eccellente di uscita abbia il successo che sta avendo è un meccanismo che non può che portare bene al cinema perché lo vediamo se ormai i film raramente arrivano alla seconda settimana nelle sale non c'è più il tempo del fatto che in certi casi vai al cinema perché così tanti amici hanno detto ma l'hai visto ma come guarda che bellissimo magari di tuo non sareste nato a vedere quel film ma ti hanno parlato bene in così tante persone che alla fine vai a vederlo e questo genera ovviamente un indotto e un circolo virtuoso per cui congratulazioni a Nolan e congratulazioni a Goranson e facciamo entrambi un grande in bocca al lupo per la notte degli Oscar alla prossima